Grazie soprattutto a voi che ci ascoltate perché il tema è complesso, abbiamo provato ad essere anche concisi, provando a dare anche punti di vista importanti e diversi e quindi adesso ci aspetta un altro pezzettino di lavoro. Attendiamo il Presidente Gianni che dovrebbe essere in viaggio e arriva, però nel frattempo noi intanto cominciamo a fare un ragionamento. Inizierei quindi dalle associazioni toscane e quindi darei la parola alla CGL Brutini Maurizio.